5,9,8,7,6,5,4,3,2,1 Questo non è un semplice viaggio, è un viaggio del centro della terra è un viaggio al centro di naviga, è un viaggio fantastico Grazie a tutti Benvenuti sotto la bar di Nona Davanti a noi si stavano i 15 km di galleria della miniera Rio Manciore Perché ci troviamo qui? Abbiate pazienza Il nostro fantastico viaggio è ben iniziato Grazie a tutti Grazie a tutti Guardate Grazie a tutti Grazie a tutti Vanghi, sabbie, conchiglie, coranghi e aglie Tutti portati dal mare che è in base alla nostra regione in quanto è il Miso Zorio Nei millenni, questi sindicati si sono depositati, compattati Da essi lascia la parola che è in base alla nostra comunità, adesso ci siamo letti, come vi sentite a 200 milioni di anni di profondità Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sono 34 celle, celle idroge, dove le nostre vene vengono conservate grazie a tre ingredienti naturali, il freddo, il buio e il loro stesso respiro. A proteggere ci sono le nostre vene vene, anzi, il loro sottosuono. Qui sotto ogni anno arrivano 200 milioni di lire. Con queste gente abbiamo ridotto il consumo di miracina e rispondiamo acqua. La roccia ha sostituito i bagnami insolanti. Non serve più costruire nuovi magazzini su superficie. Così salvaguardiamo il territorio. È la nostra valle. Ve l'abbiamo detto. Siamo a Ponte Lì. Abbiamo a raggiungere. Vogliamo modernare i nostri figli una terra buona, così come noi l'abbiamo ricevuta dai nostri padri. Credo che avere la terra e non rovinarla sia la più bella forma d'arte che si possa desiderare. Grazie.